bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui che parla è D'Azor e in questo nuovo canale farò un bel play, tutorial, challenge che tutto quello che mi fidete che mi passa nella testa io farò allora io vorrei dire due cosette veloci veloci allora la prima cosa è di iscrivervi e lasciare un like e un cosiddetto positivo e la seconda cosa se volete entrare nel vostro contatto lasciatevi i vostri numeri sui miei social facebook e instagram andateci e niente ragazzi io vi lascio al prossimo video vediamo nel prossimo video e niente bello ciao